Ristorante cascade, pizzeria cascade, pub cascade, primi piatti da sogno, le pizze più buone, le insalate a buffet fino a mezzanotte, per questo ti invitiamo al Ristorante cascade, pizzeria cascade, pub cascade, con ristorante e pizzeria aperti fino a mezzanotte, da lunedì alla domenica tutti i giorni, Ristorante cascade, pizzeria cascade, pub cascade, a Bolzano, con grande e comodo parcheggio, puoi chiedere di meglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti